L'argomento che mi è stato affidato è quello di analizzare quali possano essere le indicazioni e i limiti della chirurgia flapless, che è un termine che viene molto utilizzato nel passato più recente attualmente, al punto che mi è capitato anche di assistere ad alcune discussioni e conversazioni tra colleghi, all'interno delle quali, nell'ambito delle quali, se non si faceva chirurgia flapless o non si aveva un approccio definito minimamente invasivo, si era praticamente considerati degli idioti. Vediamo quindi se è vero o no. E quindi cerchiamo di rispondere alla domanda se la chirurgia flapless sia una moda o possa essere considerata un'opzione clinica da utilizzare con le giuste indicazioni per avere risultati come quello che vedete qui, con un controllo poi in basso a destra a lungo termine di un impianto posizionato come impianto post-estrattivo immediato ma con un approccio flapless. Nell'ambito della chirurgia flapless ho ritenuto di distinguere due diversi approcci. Quello della chirurgia flapless che è in qualche modo correlata funzionale all'inserimento degli impianti e quello della chirurgia implantare stessa propriamente detta. La prima la utilizziamo in situazioni nelle quali con l'approccio flapless vogliamo mantenere e preservare l'integrità di alcuni tessuti per mettere in atto delle manovre quali la preservazione della cresta, la ridge preservation, oppure in seconda battuta quando andiamo a eseguire la fase di esposizione di un impianto che abbiamo deciso di sommergere quindi nella fase chirurgica. Questo è un caso clinico esplicativo dove sono flapless entrambe queste fasi ma non è flapless il posizionamento dell'impianto. Andando un po' ad indagare nella letteratura ci sono sia delle sistematic review come questa recente grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.